Due vittorie, un pareggio, una sconfitta. Un bilancio che sarebbe stato dolce per le abruzzesi di Serie D se non fosse per la beffa subita nel finale dalla Giulianova, punito da un gol molto dubbio di pennacchione al primo minuto di recupero. Fa festa il notaresco, ma il successo sull'Olimpia gnonese è macchiato dal gol irregolare di Gallo, che tocca il pallone con la mano destra, traendo in inganno l'arbitro e il primo assistente, che non vedono nulla e assegnano una rete chiaramente irregolare. Rosso-Blu che chiudono la pratica con il solito Banegas, ancora a segno, e che sale a quota 11 marcatore in campionato, lanciando i suoi alla rincorsa del campo basso, che resta più 4. Sapevo che era una partita che si poteva complicare, perché loro hanno preso tantissimi giocatori, quindi è una squadra che ci credono fino alla fine per cercare di arrivare ai play-out. E quindi lo sapevo, nonostante tutto abbiamo avuto tante occasioni da gol, forse dobbiamo essere un po' più cattivi nell'esecuzione, poi la partita l'abbiamo vinta, non penso, meritatamente. Chi ha 11 gol è come Banegas e Loviso, che trascina con De Giglio e Castelnuovo alla vittoria contro l'Apriglia. Gara scoppiettante e ricca di emozioni, con i laziali che passano a metà della prima frazione grazie al centro di Pezzone, ma è il centrocampista ad impattare in chiusura di tempo. L'1-1 dà nuova forza ai nero-verdi, che innestano le marce altissime con la doppietta di De Giglio nella ripresa, che chiude la pratica e rende mano il gol nel finale di La Ghigna. Castelnuovo che si conferma così terza forza del campionato. Sono stati i primi 20 minuti dove abbiamo subito le loro manovre, lo sapevamo, il problema è che non siamo riusciti mai a ripartire, abbiamo sbagliato tanto e ci siamo anche spaventati un po', quindi abbiamo perso un po' di sicurezza, di certezze, poi sicuramente il pareggio ci ha ridato vigore, e poi nel secondo tempo è stato un altro Castelnuovo perché abbiamo corretto un po' di cose, siamo andati a prenderli più alti impedendogli di giocare. Altra gara ricca di rete all'Aragona con l'Avastese che riesce ad acciuffare in extremi su un pari al cospetto del Fiuggi, trascinato dalla doppietta di Gaetani. La prima rete in posizione regolare è ripresa dal gol del giocatore più in forma tra gli aragonesi, ma Mona ancora a segno. Gaetani nel secondo tempo permette all'undici di Beppe Incocciati di rimettere il naso avanti, ma è capitano a tempo quasi scaduto a regalare un punto alla formazione di Dadderio. Diciamo che potevamo anche perdere, il risultato non dico più giusto perché dopo abbiamo creato anche noi, però loro ci hanno messo in difficoltà, c'è stato un quarto d'ora che prima o poi aspettavamo che facessero gol, e devo dire che forse la migliore squadra vista finora, bisogna essere obiettivi, ma devo riconoscere questo Fiuggi che ha tanta qualità, e non solo qualità, anche corsa. Sconfitta Beffa e con un gol molto dubbio per il Giulianova che a Reganati sfiora l'impresa prima di inchinarsi alla formazione di casa. Pagliari coglie il primo successo in giallorosso, scappando sul 2-0 con i centri di Tittone prima e Liguori poi. Ma il Giulianova è indomito e in pochi giri di lancette riesce a riemergere dallo svantaggio. Al 67esimo Antonelli e al 68esimo Danna firmano la parità, che sarebbe meritata ma che sfuma con la mischia conclusiva nella quale qualche spinta di troppo ai danni dei difensori di Bitetto avrebbe potuto portare all'annullamento della rete marchigiana. Un momento in cui eravamo, diciamo, di slancio. Anche dopo il 2-2 comunque la squadra era viva, dimostrava magari di poter continuare ad impensierire. Però ci sono stati quei minuti finali della partita dove il Reganati ha collezionato anche diversi calci d'angolo e lì nella mischia purtroppo forse siamo stati puniti oltremodo. Mercoledì 4 recuperi. Il Giulianova va al Civitelle contro l'Agnonese per una gara da non fallire assolutamente. Il notaresco invece all'Alsavini ospita il Tolentino per cercare di accorciare sul campo basso. Oltre a questi match, in campo anche Re Canatese-Apriglia e Matese-Atletico-Porto-Santelpidio.